cosa consiglia oggi tenni facciamo il rotolo ripieno rotolo dolce ripieno iniziamo dividendo i tuorli dall'argume metteremo lo zucchero lo zucchero non va messo per intero ne metteremo un pochino di più della metà perché un'altra parte lo utilizzeranno utilizzeremo rimontare i tuorli aggiungiamo la buccia di limone grattugiata e iniziamo a montare dopo aver montato a me degli albumi passiamo ai porli quindi ci mettiamo all'interno un cucchiaino di miele ci mettiamo un pizzico di sale e iniziamo aggiungiamo piano piano gli albumi facciamo la farina prelevo 60 grammi di impasto bianco mi setaccio 10 grammi di cacao in polvere li meschio insieme a un cucchiaio di latte in una teglia rettangolare 30 x 25 mettiamo il composto bianco e lo livelliamo una volta fatte le righe facciamo questo movimento stretto stretto diminuisce tutto l'edito Nel frattempo levare il ripieno delle ciotole, quindi metto il mascarpone in una ciotola e ci metto lo zucchero a velo, due cucchiai, e comincio a lavorare. Aggiungo due cucchiai di crema pandistelle, aggiungo un altro cucchiaio di pandistelle, a questo punto la crema, il mascarpone e il pandistelle è pronta. Cospargiamo di zucchero semulato. Copriamo con la pellicola trasparente. Sacchiamo i bordi con il coltello, quando è ancora tutto caldo. Aiutandoci con un vassoio, piano piano rigiriamo l'impasto pronto, quindi la pasta, e togliamo la carta a forno. Proprio piano con la pellicola mi aiuto a girare il rotolo vuoto. Quando è ancora tiepido lo snotoliamo e lo cominciamo a farcire. Saluto a tutti, faccio ciao con la manina, ciao! Ciao!